Situazione meteo di oggi, venerdì 14 settembre su Palermo e provincia. Pioggia o rovesci, vento da ovest e sud-ovest con intensità di 40 km orari, temperature 18 la minima e 20 gradi la massima. Previsioni meteo per domani, sabato 15, pioggia anche abbondante, eventi saranno prevalentemente moderate e soffriranno da ovest a nord-ovest con intensità di 18 km orari, temperature 19 gradi la minima e 24 la massima.